E' una vita che ti sveglia la mattina e il primo pensiero è come popolarti la roba, la rovina. C'è il motivo per cui sono entrato in comunità, quello principale è stato la paura di perdere i miei figli. E' da tanto che ti sto dicendo che io voglio togliere il suo metadone, io sto bene senza prendere il metadone. C'è ma che mi devi fare? Inizia l'altra terapia di assinanza, mi danno i dividol e mi sto pure più tranquillo. Caro Gian Vittorio, il nonna che ti scrive e ti manda questi piccoli pensieri. Perché comunque i pregiudizi su queste cose ci sono, inutili negarli. Ti proteggi, non puoi prendere il primo che capita. Ciao, sono amore, sai io, la mia vita, mi è successo questo, questo e questo, ho fatto determinate cose. Non te lo puoi permettere più che altro, specie nella società in cui viviamo. Perché non tutti sono propensi a capire.